In Toscana di Ippodromi ce ne sono ben sette, dislocati su tutto il territorio, dalla Maremma fino a Pistoia, un comparto che impegna almeno 2000 persone e che vante migliori allenatori di trotto e galoppo e miglior cavalli. In Toscana il settore dell'Ippica è un'eccellenza ma sta attraversando un momento di crisi dovuto anche al calo delle scommesse e dalla poca fidelizzazione dei nuovi e vecchi amatori. Questa è la situazione del settore Ippica in Toscana, fotografato dal convegno organizzato dal Consiglio regionale. La Toscana è la regione d'Italia che ha il maggior numero di Ippodromi in attività, che sono sette, non esiste un'altra. È la terza regione italiana come numero di cavalli, ha eccellenze, eccellenze anche internazionali, basti pensare ai centri di allenamento. Nel passato abbiamo dato vita a puledri e ad attività che erano invidiate da tutto il mondo. Si tratta di riprendere da una mano coinvolgendo il Governo centrale perché poi è quello che ha strumenti e mezzi per poter intervenire e legiferare e sui quali noi come regione dovremmo essere obbligatoriamente ad ausilio. Ad oggi le risorse finanziarie però sono poche d'incerte, come ha sottolineato Stefania Mastromarino, dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ma cosa si può fare allora per rilanciare il settore? Che si può fare? Sicuramente tanto si può fare. Innanzitutto noi come Ministero possiamo in qualche modo promuovere anche una riorganizzazione di quelle che sono le politiche di filiera per far sì che veramente diventi una filiera unica, le anelli di un'unica catena. Per aiutare gli ipodromi toscani in attività quindi la soluzione è una politica di filiera per puntare alla conquista di nuove quote di mercato.